Una manifestazione importante, io sono contento che nasca a Buti, nel mio territorio, in provincia di Pisa, ma che si sia allargata anche a Cascina e Lucca, segno della qualità della manifestazione, della qualità degli organizzatori e dell'evento che lo scorso anno ha attirato tantissime presenze. Un grazie particolare al regista Gabriele Paoli, che da Londra coordina tutto il lavoro. Come Consiglio regionale ci stiamo impegnando tanto per la valorizzazione e l'identità del nostro territorio, della nostra storia e credo che iniziative come queste vadano esattamente in questa direzione. Per questo oggi sono qui per dare il mio piccolo contributo per il sostegno ad iniziative come queste che dovremmo ancora di più come Consiglio regionale incentivare.